Ma è dura da commentare, chiaramente abbiamo pareggiato una partita senza che l'avversario tirasse in porta. Primo rigore, insomma, ci sono tanti due molto generosi. No, vabbè, userei un altro termine, in genere è scandaloso, ma credo sia anche poco. Riconosciuto peraltro anche dai tifosi qui del Bitonto in tribù. Assolutamente, quindi il Bitonto ha pareggiato una partita senza tirare il porta, anche se onestamente ci ha messo impegno, spirito di sacrificio, abnegazione, contro un forte Manferoni. Oggi i ragazzi veramente hanno scelinato una grande prova, era difficile veramente chiudere tutti gli spazi, il Bitonto si è attaccato a tutto e per questo vi faccio i complimenti proprio per il sacrificio che hanno fatto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché siamo andati sotto con un rigore scandaloso, come ho detto prima, però la volevano pareggiare e vincere. Loro la volevano vincere questa partita, quindi dopo il rigore, scusate, dopo il pareggio hanno continuato a spingere perché la volevano vincere. Siamo riusciti ad andare in vantaggio. Tutto il secondo tempo, mister, pressione totale. Assolutamente, assolutamente. Tutta la partita direi, ma in particolar modo il secondo tempo siamo stati nella loro metà campo. Quindi niente, parlare di un pareggio oggi è dura da buttare giù, però diamo anche merito all'avversario che veramente si è impegnato tantissimo a combattere contro, direi, un propositivo Manfredonia.